il prossimo contributo per questa serata e vorrei chiamare qui sul palco intanto Rossano ce l'abbiamo già abbiamo Rossano Gasperini con il coro gospel che appunto si chiama Lopordo Gospel Choir Lopordo Gospel Choir un applauso a Lopordo Gospel Choir Lopordo Gospel Choir Lopordo Gospel Choir Buonasera a tutti Lopordo Gospel Choir Eccolo qui, grazie Possiamo anche ballare? Questo è un toro che si può anche ballare Gosto Eccolo qui, grazie a tutti Eccolo qui, grazie a tutti 1, 2, 3 Eccolo qui, grazie a tutti 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 the head of heart and my father, amen 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 see him in the church, preaching to the people healing all the sick ones, amen amen see him in the garden praying to the father in the first sorrow amen 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 Eccolo qua, il primo pezzo. Il prossimo pezzo che facciamo è un pezzo che sembra di andare a Pereta. Vi ricordate Pereta? È un paese vicino a Scanzano, ma non è Pereta. Operator. Operatore. È una bella storia perché parla di una persona che prende il telefono in mano e si può mettere in contatto con Gesù Bambino e cerca un operatore disponibile a collegarlo con Gesù Bambino. Operator. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.